Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi leggiamo e analizziamo insieme Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Tanto gentile e tanto onesta pare è una poesia iconica del nostro Dante che appartiene alla Vita Nova. La Vita Nova è un prosimetro che è stato scritto da Dante, pubblicato tra il 1293 e il 1295 e che consta di 42 capitoli. Di questi capitoli dedicati a Beatrice abbiamo 31 componimenti in volgari, oltre alla parte naturalmente in prosa, per la maggior parte sonetti. La Vita Nova, lo dice il titolo stesso, è una vita rinnovata dall'amore altissimo. Quello per Beatrice. Lo sappiamo ma lo ripetiamo. Dante incontra Beatrice per la prima volta a nove anni. La rincontra nuovamente quando ha 18 anni. Beatrice lo saluta e lui, proprio per questo saluto, si sente beato e felice. Per quanto riguarda poi l'analisi della Vita Nova, ne abbiamo parlato nelle opere di Dante, quindi vi lascio qui il video per recuperarlo. Dante decide quindi di dedicare la sua vita a Beatrice e alla lode della donna amata. Nella poesia, che fa sempre parte della Vita Nova, donne che avete intelletto d'amore, si rivolge proprio alle donne. Le donne che sanno che cos'è l'amore e che sanno che lodare la propria donna amata significhi proprio amare. In tanto gentile e tanto onesta pare, quindi Beatrice viene lodata non solo come una donna bella, anzi viene lodata come simbolo della divinità, colei che è venuta a Miracle mostrare. Sappiamo poi che Beatrice perderà la vita e che la morte di Beatrice sarà un duro colpo per Dante. Nonostante Dante poi trovi delle consolazioni temporanee, in realtà tutti i suoi pensieri poi ritorneranno a Beatrice che arriverà a lodare nella commedia. Quindi per un periodo deciderà di non parlare più di Beatrice, ma poi ne riparlerà nella commedia in quanto sua guida. Tanto gentile e tanto onesta pare, come vi dicevo, fa parte della Vita Nova, del ventiseiesimo capitolo, precisamente, ed è un sonetto di quattordici indecasillabi suddivisi in due quartine e due terzine. Lo schema è rima incrociata, abba, abba, nelle quartine e a rima invertita, c, d, e, d, c, nelle due terzine. Vedete qui lo schema rimico con anche i colori abba, abba, c, d, e, d, c. Iniziamo la lettura delle due quartine e poi delle due terzine e analizziamo. Tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia, quando è l'altrui saluta. Cogni lingua deve entremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Innanzitutto vediamo le figure rhetoriche per poi analizzare questi versi che sembrano forse di una prima lettura semplici, ma non lo sono affatto. Notiamo al primo verso, è un jambement, tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia. Tanto gentile e tanto onesta pare, è un'anastrofe. Abbiamo poi le panalessi, tanto gentile, tanto onesta, perché questi due termini sono dei termini di significato analogo, e l'iperbole, che ogni lingua deve entremando muta. Innanzitutto, tanto gentile e tanto onesta non hanno il significato a cui siamo abituati. Infatti, con gentile noi intendiamo nobile d'animo. Dunque, la nobiltà d'animo indica tutta una serie di virtù, quali il decoro, la modestia, l'umiltà, la pudicizia. Dunque, non è una banale gentilezza, ma è una nobiltà d'animo, concetto caro al dolce e stil novo. Sappiamo che Dante per un periodo si avvicina al dolce e stil novo, poi ne prenderà le distanze. E la nobiltà d'animo, contraposta alla nobiltà di sangue, era proprio uno dei termini chiave del dolce e stil novo. Vi lascio qui la videolezione sul dolce e stil novo per un ripasso. Onesta, anche qui, ha lo stesso significato di gentile, quindi è una nobiltà d'animo, che però è riferita in questo caso non tanto solo all'animo in sé, ma anche ai gesti che una persona dall'animo nobile mette in campo, quindi al portamento, ai gesti di Beatrice. Tanto nobile d'animo e tanto dal portamento, onorevole potremmo dire, dal portamento dignitoso, pare. Questo pare non è un banale, sembra, ma è una parola chiave che peraltro ritorna nella poesia. Compare intendiamo si manifesta, appare, quindi un'apparizione come quella di un miracolo, una manifestazione. Quindi pare è una parola chiave e torna per ben tre volte nel sonetto. La donna mia non è la donna mia, ecco la mia fidanzata, ma è da domina, domina, domna, donna, padrona, signora del mio cuore. Cosa fa Beatrice, quindi? Saluta. Il saluto, anche qui, secondo la concezione del dolce stil novo e anche secondo l'etimologia della parola saluto, che viene la salus e significa salvezza, quando Beatrice appare, si manifesta e saluta gli altri, la sua apparizione è un miracolo. Quindi la donna che saluta il poeta lo salva spiritualmente. E quali sono gli effetti che subisce il poeta o l'uomo quando Beatrice si manifesta? Gli effetti d'amore. Non riesce a guardarla negli occhi il poeta e addirittura la lingua diventa muta. Un'iperbole questa, quindi perde le parole. Vediamo ora la seconda quartina. Umiltà vestuta è una metafora. Questo vestuta, peraltro, è anche un provenzalismo. Venuta e vestuta sono in paronomasia, come rosa, riso, quindi parole che hanno significati completamente diversi, ma che foneticamente si assomigliano. Una cosa venuta da cielo, in terra, a miracolo, mostrare, è una perifrasi, quindi girare attorno per dire, poi esprimere un significato, un concetto. Una cosa venuta da cielo, vediamo un enjambement e notiamo l'anafora di e par, e par. Come vedete, Dante utilizza il termine cosa per riferirsi a una donna. Ora noi storceremmo il naso, ma in realtà con la parola cosa i medievali, in questo caso, intendono un essere indeterminato, ma soprattutto indefinibile, ineffabile, quindi qualcosa che produce delle sensazioni straordinarie. La donna, infatti, è vista come un angelo, un intermediario tra cielo e terra, un tramite tra il poeta e Dio, che dà la salvezza spirituale. Vediamo ora la prima terzina. Notiamo qui, abbiamo il poliptoto, mostrare, mostrasi. L'anafora, è par, è par, la metafora, spirito soave, e la sineddoche, l'abbia. L'enjambement, si muova uno spirito, e la perifrasi, quindi girare attorno a un concetto, va dicendo all'anima. Spieghiamo bene però questa sineddoche, l'abbia. Labbia non significa labbra, ma fisionomia, l'espressione del volto. Quindi, quando Dante dice par che delle sue labbia si muova uno spirito soave, intende che dalla sua fisionomia, dalla sua espressione del volto, si manifesta, appare, uno spirito, cioè un'attività vitale. In questo caso, lo spirito è un termine che rimanda alla filosofia. Quindi, spirito è un'attività vitale, un'emozione. Questo spirito addirittura va dicendo all'anima, sospira. Come vedete in questa poesia, Dante descrive un'esperienza mistica quasi, collettiva, dal valore universale. La visione di Beatrice è un'esperienza estatica. Abbiamo una contemplazione di Beatrice, tramite proprio un ritmo lento che viene utilizzato, espresso in questa poesia. E c'è una contemplazione che è caratterizzata da stupore. Notate anche che i versi hanno degli accenti ritmici. L'immagine di Beatrice è immateriale. Certo, da una parte abbiamo il concetto di donna, ma abbiamo anche le labbia, in questo caso la fisionomia di Beatrice imprecisata, in questo sorriso, l'elemento del cielo, della terra, di cui lei è ponte, il miracolo. E Beatrice è definita una cosa, quindi indefinibile. Spero che questa poesia vi sia piaciuta. Io da poco ho scoperto un arrangiamento di Clementino che ho trovato molto orecchiabile e utile anche per imparare a memoria questa poesia meravigliosa. Alla prossima video-lezione! Grazie a tutti!